Grazie 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 Buonasera a tutti Invito il regista Pietro Castellitto a raggiungermi qui sotto il palco sotto lo schermo scusate per questa chiacchierata Buonasera Benvenuto complimenti una sala bellissima tutta per te anche se dimezzata ma proprio perché dimezzata quando è poi così comunque piena anche se a metà fa molta impressione ti abbiamo conosciuto come attore due anni fa eri sempre qui qui davanti per la profezia dell'armadillo due anni fa e quindi ti abbiamo conosciuto come attore era un po' di tempo puoi toglierla era un po' di tempo che pensavi di debuttare alla regia è stata una decisione improvvisa ci pensavi da tanto no no ci pensavo da tanto io ho smesso di fare l'attore a 22 anni e mi ero messo a scrivere poi visto che le energie che uno ha sono limitate le incanalai tutte nella scrittura con l'idea di fare un film appunto il paradosso è che sono riuscito a scrivere questo è il primo copione che scrissi poi hanno scritto i altri tre però questo era il più puro sono riuscito a scrivere il primo copione perché è smisi di fare l'attore e però poi sono riuscito a realizzarlo il copione grazie al fatto che ho ricominciato a fare l'attore nella profezia presentato appunto due anni fa qua quindi è un cerchio bello che si chiude e dici che hai smesso di fare l'attore perché avevi smesso di fare l'attore hai deciso di smettere di fare l'attore l'ho smesso perché non mi sentivo più libero in quel ruolo poi l'attore è bello farlo se puoi creare dei personaggi poi forse non so avevo perso anche la fiducia in me stesso e io dico che io non sono un attore che è diventato regista sono un regista che è diventato attore perché poi negli anni in cui scrivevo mi sono reso conto che poi miglioravo anche come attore perché recitavo tutti i personaggi vorrei ringraziare comunque tutti quelli che hanno fatto il film da Domenico e dalla Rai Paolo, Paola e tutti ecco se magari vuoi ricordare chi ti ha accompagnato qui a Venezia gli attori tutto il cast artistico il cast tecnico la fortuna di questo film è stata soprattutto che si è stato costituito da persone che lo hanno amato sin da subito e che lo hanno trattato e protetto come un qualcosa di importante e quindi gli sarò grado per sempre a tutti a tutti gli attori a tutti i tecnici ma devo fare i nomi? no mi sembra ne scordare qualcuno mi dispiacerebbe senti una cosa che colpi una delle tante cose che colpiscono di questo film in generale potrei dire la sua maturità nonostante la tua giovanità però è la scelta anche dell'argomento e della complessità allora normalmente chi esordisce alla regia alla tua età racconta storie diverse racconta storie che riguardano persone della tua età problemi legati a persone che hanno la tua età tu hai guardato oltre da cosa nasce questa esigenza di guardare al di là diciamo di un orizzonte più ristretto ma è venuto naturale nel senso che poi i film in generale soprattutto le opere prime penso che nascano dai sentimenti ci stanno alcuni sentimenti che li muovono e poi arrivano i messaggi il sentimento che muove questo film è sicuramente quello di Federico che è l'unico vero personaggio biografico della storia anche se non sono proprio io però quel carico di frustrazione e di alienazione che Federico c'ha era anche un po' quello che avevo mentre scrivevo ed era un carico di frustrazione che non era soltanto legato a un disagio generazionale era una la frustrazione l'impotenza più che altro di non riuscire di non poter più manomettere il mondo di non poter più reinventare la modernità e credo che questa frustrazione ce l'abbiano tutti i personaggi del film poi in Federico raggiunge magari la massima messa in scena però ogni personaggio nel proprio piccolo percepisce di vivere un po' per inerzia e quindi fa di tutto per invertire il corso degli eventi della propria vita siete pochissimi in realtà la sala deserta no, come deserta no, scherzo sono tanti senti la complessità la ricchezza del film sta anche nel fatto che tu passi da un tono all'altro da uno stile no, stile all'altro forse non è la parola giusta però ci sono tanti toni nel film tanti tanti aspetti stilistici diversi c'è un po' una mescolanza che spesso si nota anche nei giovani registi tu a cosa ti sei ispirato da dove arriva da dove ti arriva questo linguaggio come hai lavorato proprio sulla messa in scena ma anche mentre lo scrivevo percepivo che il genere del film non era precisissimo non so se era una commedia drammatica o un dramma comico e quindi di conseguenza anche la regia mi è venuta naturale farla in questo modo per cui è sicuramente un film che non si tutela dietro un genere specifico forse anche perché non ero in grado di farlo non lo so però è un film che cercava e ha cercato anche mentre lo scrivevo di imitare la vita e le sue insomma le sue complicanze le sue sfaccettature e la vita non c'è un genere preciso poi tra l'altro è un film fondamentalmente fatto dai personaggi sono questi attori stupendi che ho avuto la fortuna di incontrare che mandano avanti la storia e quindi i personaggi per essere forti e per essere magici dovevano essere sfaccettati dovevano dovevano avere una gamma di colori varia ci racconti il tuo primo giorno di set da regista il primo giorno di set me lo ricordo sì stavo che se lo scorda ricordo che la sera a Shades Sky perché la sera prima dicevo ma cazzo potevo fare un film più dritto con un personaggio con un genere più identificabile e invece accesi Sky e vedi Vaniglia Sky che è un film stranissimo e quindi questa cosa qui mi rincuorò finché ci stanno questi film non erano i predatori in confronto è un film dritto è un film e mi presentai sul set e mi ricordo che c'era la macchina da presa messa alta così che puntava al tavolino lo che ci abbiamo girato è la Venicio Marchioni che frega la Marzia Obaldi e c'era la macchina da presa messa alta e anche da Carlo ho detto la fotografia ma che cazzo ci fa questa vabbè poi la cambiamo poi insomma mi ricordo questa cosa qui e poi feci due primi piani e non volevo cambiarli non mi servivano più stretti quindi per tutto il giorno feci questi primi piani e poi ho trovato anche perché mi ricordo che durante il primo Chuck la scena andava avanti e io pensavo soltanto a ora quando finisce la scena che cazzo dico perché gli registi parlano sempre un po' quando la scena finisce io per tutto il tempo ho pensato ma e ora che cosa dico pensavo a quello che avrei dovuto dire dopo poi c'è stata poi c'è stata una cosa che non mi era piaciuta tanto e quindi mi sono fissato in maniera maniacale su quella e poi pian piano mi è venuto naturale ho trovato come dire quella velocità mentale di capire in diretta le cose che mi funzionavano male e sono riuscito a godermi le scene che vedevo ma durante il primo Chuck mi ricordo questa sensazione che cosa gli dico appena dico stop perché io non l'ho mai nessun set ci sta stop ok facciamo un'altra azione no si dice sempre qualcosa e io non sapevo che cazzo dire tipo va bene però possiamo farla in un altro modo ma quando si fa l'attore cioè come attore hai tutta l'attenzione no vieni coccolato sul set sei l'attore quindi le tue esigenze sono quelle sono la priorità quando diventi regista sei tu che ti devi occupare degli altri sei tu che devi andare incontro alle esigenze degli altri questa cosa è stata difficile o è stato un bagno di umiltà in qualche modo no no poi quando sei regista spesso vengono anche incontro alle due esigenze no no anzi sei stato coccolato lo stesso sì sì mi è sembrato no no assolutamente sono stati 31 giorni magici mi ricordo come un campo a scuola di parecchi anni fa invece soltanto un anno fa è stato tutto molto naturale quando scrivevo il film mi sembrava normale che quel film dovessi farlo io che il copione non dovesse essere delegato a nessuno e mentre scrivo il personaggio di Federico mi sembrava impensabile poter spiegare a qualcuno quel ruolo anche perché poi le condizioni in cui un giovane fa un'opera prima sono sempre estreme soprattutto da un punto di vista di tempo e quindi il tempo va capitalizzato e il fatto di recitarci anche paradossalmente mi permetteva subito di di creare il clima che volevo senti gli attori hai scelto degli attori straordinari giustissimi per perfetti per i ruoli che hai affidato loro le hai scelti facendo un provino avevi già in mente alcuni di loro per quel ruolo come 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 hai lavorato con loro ma io faccio pochi provini da essere onesto ma gli attori l'idea era quella di trovare degli attori proprio perché è un film che si regge sui personaggi trovare degli attori che che avessero la giusta elettricità per cui guardavi il personaggio e non guardavi l'attore e e quindi insomma non non ho avuto pressioni da quel punto di vista ho detto questa cosa ho convinto tutti anche perché poi in Italia non è che ci sta Leonardo Di Caprio che ti manda 20 milioni e ti fa fare 20 milioni di euro al Cino un'opera prima anche sano sperimentare pure con gli attori per avere qualche faccia nuova e soprattutto per non legare i sentimenti ai volti per cui tu vuoi esprimere quel sentimento prendi quell'attore vuoi esprimere sfigataggine prendi quell'attrice vuoi esprimere tutto così anche per svincolarsi un po' nel film si parla di Nietzsche tu sei lavorato in filosofia vero? sì così mi hanno detto così pare certificato me l'hanno dato e quindi Nietzsche cos'è? un omaggio a qualcuno che che ha amato particolarmente durante gli studi che cosa rappresenta per te visto che come dire è un personaggio del film sì sì è anche tornando al discorso della decadenza che ti facevo prima quello è un discorso molto molto Nietziano e sì no Nietzsche è veramente è un veramente una presenza che mi ha cambiato la vita prima di Nietzsche soltanto i giochi della Playstation mi cambiavano la vita mi cambiavano l'estate o l'inverno Nietzsche lo iniziai a leggere a 17 anni continuo e feci un viaggio sui luoghi niziani che si concluse a Roken dove tra l'altro ho girato dove il e dove appunto arrivai questa domenica deserta assolata non c'era nessuno non c'era neanche un guardiano che controllava la tomba e davanti alla tomba di Nietzsche pensai che volendo se avessi avuto un piatto di porco avrei potuto disseppellire il cadavere e portarmelo a Roma feci questo pensiero c'avevo 20 anni questo pensiero mi rimase e poi in maniera un po' diversa è tornato anche nel film senti mamma e papà ti hanno incoraggiato a fare a realizzare la tua opera prima o hanno detto ma forse no mi hanno detto vieni al ristorante vieni a lavorare al ristorante con noi no no c'è se voglia ma hanno no no sì ma no mi hanno molto incoraggiato e papà è il primo che deve essere la sceneggiatura credo la prima versione parecchi anni fa e mi ricordo che era felicissimo soprattutto per il fatto che non era brutta esatto perché se no come glielo dicevo no mi hanno incoraggiato e mi hanno tranquillizzato e e poi mi hanno anche insomma durante il lockdown quando ho rifatto quando ho fatto altri tagli tra l'altro Alberto Barbera mi consigliò di tagliarlo quindi mi rimise al montaggio e un paio di scene proprio a mamma mi hanno consigliato di tagliarle una glielo d'oretta un'altra no quindi insomma si può dare ascolto anche ai consigli beh sì ma è normale far vedere le persone far vedere il film alle persone di di cui ti fidi sì sì assolutamente va bene grazie 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 di questo film grazie di essere qui e ti auguro tutto il meglio grazie grazie Grazie.